Allora, la macchina prima di partire fa un check-up, quando pussa così vuol dire che sta facendo un check-up. Adesso schiacciamo e allora il check-up. Il check-up vuol dire che praticamente lei fa passare tutte le sicurezze, qui c'è una sicurezza, perché un melograno del genere le qua ha un bicchiere, qui diciamo a 200 o 20 cc. E il protomotto è questo. Facciamo così. Noi per far sentire il sapone, per vedere lo bi verrà.